Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Oggi per la gioia di tutti quanti giocherò in compagnia di Claudia Per chi non conoscesse Claudia è una delle mie amiche ed è anche una delle builder migliori di questo server Infatti fino a qualche mese fa era al terzo posto tra i costruttori migliori del mondo Quindi lasciate un bel mi piace a questo video perché adesso sta per entrare Ta-da! Eccola qui! Non giochiamo insieme da tantissimo tempo quindi mi raccomando tanti tanti mi piace per questo video Se questa è la prima volta che vedete un mio video beh io non sto giocando con lei per vincere facile Semplicemente per farvi vedere come una specie di documentario come giocano i builder migliori del mondo Allora dobbiamo costruire una chitarra, un trattore, un testo, un ninja Oh io voglio fare la chitarra, la chitarra che figata Sono proprio curioso di vedere come farà la chitarra Mi ha detto che sarò io a fare la chitarra No ma io non so... ma aspetta io non ci riesco Ok iniziamo a prendere i blocchi colorati perché sicuramente ci serviranno Potremmo fare una bella chitarra, una chitarra elettrica magari Questa è una persona, sono le sue scarpe? Ok allora questa qua dovrebbe essere la chitarra Quindi diamogli la forma tipo di una chitarra elettrica o di un basso Queste sono le corde Ok così Continuiamolo ora verso su E spero si capisca Si capisce secondo voi che questa è una chitarra elettrica? Si dovrebbe capire Quindi... oh mio dio non ci posso credere Avete capito cosa sta facendo? Quello è il braccio che sta andando praticamente a fare Sulla chitarra Che figata Allora qua dobbiamo mettere un pochettino più di bianco Perché se questa qua è la chitarra ha bisogno decisamente di un pochettino Beh non so lo sta facendo mezza elettrica e mezza di legno Quindi sinceramente non lo so per quale motivo lo sta facendo così Però almeno facciamolo capire bene che questa qua è la chitarra Qua mettiamo le corde Ne mettiamo un altro pochettino Perché sicuramente aiuta Ok Si 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 molto bene Devo soltanto mettere un po' più di contorno adesso Quindi prendiamo questo rosso E aggiungiamo il contorno in questo modo Da far capire che questa qua è in pratica Questa è la parte bassa della chitarra E quella là è il legno Ok penso proprio che si capisca Non ci credo Guardate che figata Sta facendo anche i capelli di una rockstar No vabbè fantastico Devo confessarvi che all'inizio ero piuttosto confuso Perché in pratica ha usato un angolo molto particolare Infatti la costruzione inizia qua Ma come vedete ragazzi è tutta storta Lui è tutto piegato Quindi all'inizio non avevo capito che cosa stesse facendo Adesso invece ho capito tutto quanto Ha preso forma È stra bella Mi piace tantissimo Wow E beh io non sarei mai riuscito a fare una costruzione del genere Quindi se dovessimo vincere Sappiamo tutti quanti che abbiamo vinto Che ho vinto Soltanto grazie a Claudia Ok quindi questo qua È il suo basso E questo è il chitarrista Oh mio Oddio Che figata ragazzi Ha fatto il rocker No vabbè io non ho mai visto una costruzione del genere sinceramente Ok Sì dai questa non è male È bellina Certo Cioè enorme per carità Gli darei Gli darei un bel good Vediamo qua che cosa hanno fatto Oh hanno fatto uno che sta suonando il mandolino Credo che quello sia il mandolino Con le casse È un concerto Epico Bella costruzione Che figata giocare contro i pro ragazzi E questo dov'è la chitarra scusa Questa è una casa No Che c'entra Oh mio dio Che cosa è successo a questo Perché c'ha gli occhi fuori dalle orbite E dov'è la chitarra Ah è qua dietro Gli do un ok Non mi fa impazzire però è una bella costruzione Questo voleva fare la nota musicale Eeeh Pup Scusa Ah no è una chitarra Ok gli do un ok Gli do un ok Cos'è un pezzo di cioccolato Con la muffa sopra Beh la nostra costruzione è proprio Su un altro livello Questa è molto bella Un bel good sicuramente se lo merita Io non so se sarei riuscito a fare meglio di così Oh ecco il nostro Vabbè dai però non vale Cioè Claudia è la migliore build del mondo Guardate che figata di costruzione ragazzi Il rocker con la chitarra Ecco Perfetto Che sta succedendo qua No Ragazzi Che è successo Eeeh No gli do super poop Non poop E vabbè Un'altra catastrofe naturale Volevano fare la chitarra Poi si sono stancati E hanno messo la TNT ovunque Eeeh Super poop Dov'è la costruzione? Non c'è Invisibile Anche loro super poop Mi stanno deludendo Oh bella questa Eh questo si meriterebbe un secondo posto secondo me Io gli do un epico Secondo me è una bella costruzione questa Wow Che figata anche questa ragazzi Un altro rocker Con una chitarra elettrica O un basso Non lo so Scusate ma non conosco la differenza Eeeh Questo ha vinto E noi siamo arrivati al terzo posto Cosa? Ha vinto questo E noi siamo arrivati al terzo posto? Cosa? Ok E' ufficiale Hanno utilizzato qualche specie di trucco Per vincere questa partita Perché non è possibile Si sono comprati l'arbitro Claudio mi dispiace La tua costruzione era bellissima Non so perché non abbiamo vinto Terzo posto ragazzi Terzo posto Ma com'è possibile? Allora Dobbiamo costruire un apocalisse zombie La musica Un kart Un castello Oppure un test Io farei l'apocalisse zombie Andiamo Di apocalisse zombie Almeno qua la posso aiutare Perché più o meno me la cavo No? Ha detto di fare una tomba E ha detto di farla sembrare Come se sia stata distrutta Da qualcuno Ok La guerra ha distrutto questa tomba Va bene Sì? Perfetto Si capisce? Sì penso che si capisce Quindi una tomba distrutta E ora sta creando uno zombie Oh mi sa che questo è uno zombie Sta facendo uno zombie gigante Ok magari facciamolo un pochettino Più grosso Quindi mettiamo più spessore Su questo personaggio Perché a me piace Quando le costruzioni Sono belle grandi E possenti Aggiungiamo un pochettino Di terreno brutto Facciamo finta che praticamente Stia distruggendo tutto Con i suoi passi Sono curioso di vedere Il risultato finale ragazzi Sarà una figata pazzesca Ma che schifo di zombie Sta creando ragazzi Vediamo Oh Ok Mi sta iniziando a piacere molto Come al solito Riempiamo un pochettino i buchi Facciamolo più spesso Più grosso Questo è uno zombie Che va in palestra Non è uno zombie magrolino Che non mangia mai Mi raccomando ragazzi Mangiate sempre le verdure Che vi fanno crescere Oh mio Oh Gli sta facendo le ossa Che escono di fuori No che figata Quindi questa è la gabbia toracica No Wow Non l'avevo mai visto Una costruzione del genere Quindi questa è un po' Parte della bocca Magari gli possiamo fare gli occhi Facciamo gli occhi tipo così O è brutto No mi sa che è brutto Ok Le lascio fare tutto quanto a lei Ok Credo che quello sia il cervello Sta facendo il cervello Che gli esce di fuori Stiamo che questo qua È il suo occhio Adesso prendiamo un blocco rosso E glielo mettiamo così Ok Wow 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 Ma che cavolo ha fatto lei nel frattempo Oh mio dio Guardate che figata Gli ha creato la mano Ok Questi sono i suoi vestiti Presumo Altra persona Cioè guardate quanto è veloce Non ho mai visto una cosa del genere io Eh la facciamo urlante magari Quindi mettiamo qua il rosso Così Slab di questo Tranquilla Claudio Sono un professionista Quindi questa è una persona che sta urlando Questi cosa Nei suoi occhi Ci sta Molto bene Sembra un pochettino Elvis Però ragazzi guardate Che figata Questo zombie gigante Che sta mangiando questa persona Beh Se arriviamo all'ultimo posto di nuovo È truccata Va bene Ando a messo degli zombie qua contro i villager Gli do un ok Perché probabilmente non sanno costruire Un ok per l'incoraggiamento Questo E cos'è Oh Sembra tipo la base degli zombie Ok Una mano che esce fuori dalla tomba Classico Oh Ecco il nostro Lo zombie gigante Che esce fuori dalla tomba Dai ragazzi Ci meritiamo veramente Un bel leggendario Forza Leggendario Cioè sicuramente meglio di questo Scusate eh Cioè Veramente Scusate Se questa costruzione ci batte Io smetto di fare le build battle per sempre Oh ok Questo è bellino Uno zombie senza testa Un alieno con Non lo so Un dito insanguinato Ok Gli ho dato un ok Gli volevo dare good in realtà E qua che ci abbiamo? Delle scritte tipo aliene per terra Eh E' uno zombie Ok Un bel villaggio Wow Questo è bello Questo mi piace Però gli zombie dove sono? Ah Eccoli Dai gli do un good per l'incoraggiamento Non ci posso credere Siamo arrivati al secondo posto E ha vinto una scritta Cioè Io sono senza parole ragazzi Io sono senza parole Ha vinto una scritta troll Ok ragazzi Seriamente riusciremo a vincere Una build battle Sto giocando con la migliore del mondo Non è possibile Un costruttore Facciamo il costruttore Ho già un'idea Potremmo fare una casa semi rotta E qualcuno con il martello Allora Facciamo una specie di casa Quindi non deve essere completa Deve essere una casa a metà più o meno E poi creiamo E poi creiamo Tipo Bob l'aggiusta tutto Col martello Con gli attrezzi Nella sua cintura Che sta costruendo Questa bellissima casa Tra l'altro So che vi piacerebbe Vedere tanti video con lei Il problema è ragazzi Che adesso va all'università Quindi non ha più molto tempo E purtroppo Possiamo registrare Una volta ogni tanto Sì Adesso Creiamo una bella Porta gigante Ecco Questa sarà Più o meno La nostra porta Ok Quindi questa è la porta della casa Molto bene Mi piace Oh cavolo Sta costruendo qualcuno in ginocchio Quindi questa casa La sta costruendo in ginocchio Ora ho capito Perché mi ha detto Di farla più grande Perché altrimenti Non ce la facciamo Deve essere enorme Questa casa Cavolo 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 Mi devo dare una mossa Devo riuscire ad aiutarla Ragazzi Lei sta già facendo il pupetto Quindi quella è la porta Queste sono le finestre Facciamole più grandi Oh Ho un'idea Possiamo utilizzare il grigio Per far finta Che qua ragazzi C'è tipo Tutta la polvere Della costruzione No Avete presente Che quando si costruisce qualcosa Si riempie tutto di polvere No i cantieri E così No vabbè Non ci posso credere Guardate che figata Sta facendo l'omino Che praticamente Sta entrando all'interno Della casa Allora io qua voglio costruire Una crafting table gigante Quindi prendiamo Del nero Secondo voi si capisce Che sto costruendo Una crafting table Ora prendiamo del ferro E facciamo I vari attrezzi Ok Quindi questa sarà Tipo la nostra ascia Qua facciamo Un bel martello Così Ok Questa è la crafting table gigante Del nostro costruttore Che sta costruendo Una casa di mattoni Beh Che figata ragazzi Una casa gigante Con un costruttore Altrettanto gigante Una crafting table Prendiamo un po' di bond mill E mettiamolo un pochettino Per terra Giusto per fare capire appunto Che questo qua È un prato Dove ancora si sta costruendo Ecco Visto Le è piaciuta l'idea Dei miei tappetini Di sporco Infatti Le ho messi un pochettino Anche per terra Per fare capire Che c'è la polvere Della costruzione Sono contento Che ogni tanto Mi vengono delle buone idee Ok Claudia Ecco la nostra costruzione Del costruttore Un'altra scritta Non ci posso cre... Ma cos'è oggi? Ma sono tutti dei troll Se perdiamo anche questa Per colpa dei troll Ragazzi mi arrabbio Ok ecco Questo è bello Ha fatto una strada Con delle case in costruzione Questo è un bel good Bravo Questo ha fatto un costruttore Senza braccia E una casa da costruire Vabbè dai Un ok per l'impegno Bello questo Ha fatto un omino Con il cappellino Da costruttore La chiave inglese Il martello E il progetto Qua davanti Good Un bambino Con dei blocchi in mano E basta Quindi il bambino Sta giocando a minecraft Perché c'ha giochi Di colore diverso Vabbè gli do un ok Questo non so bene Che cosa sia Sinceramente Quindi Mi astengo dal votare Wow Che figata Good Questa è una bella costruzione Ha fatto papà e figlio Che stanno andando Al cantiere Non ci credo Una ruspa Questo ha fatto No Bellissimo Questo No Il cantiere Con uno che si mangia il panino sopra Questo pure è good Perché non mi piace come ha fatto il personaggio Però l'idea era fantastica Non l'hai finito È una persona Senza faccia A metà Si piace Pup Oh ecco il nostro Guardate ragazzi Casa gigante Il costruttore Che sta entrando dentro Dai È una bellissima costruzione Si merita Un leggendario Hanno vinto loro due Ok Una bella costruzione E noi siamo arrivati al secondo posto Almeno finalmente ha vinto Una costruzione Che se lo merita Non delle stupide scritte Beh ragazzi Non saremmo riusciti A arrivare al primo posto Perché erano delle lobby Pieni di trollini Che votavano male E votavano tutto quanto Al contrario apposta Però Io mi sono divertito tantissimo E sono sicuro Che anche Claudia Si sia divertita Lei ovviamente vi saluta Voi lasciate un bel mi piace A questo video Dal vostro candle È tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao